Che ha trasformato un'auto, benzina o diesel in elettrica, può usufruire del bonus retrofit, un incentivo statale del valore massimo di 3.500 euro. Si tratta di un contributo pari al 60% delle spese sostenute nel periodo che va dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2022, che può essere richiesto da chi ha provveduto alla riqualificazione di veicoli adibiti al trasporto di merce e persone. La richiesta del contributo avviene tramite l'apposita piattaforma gestita dalla Consap per la misura e a disposizione un fondo di 14 milioni di euro. Grazie